Questo video riguarda i migliori 3 scaldasalviette elettrico. Il vincitore della qualità è l'SKYLY scaldasalviette. Il portasciugamani elettrico può essere collegato al Wi-Fi, impostare la temperatura e l'ora tramite l'app mobile e impostare la funzione timer. Può essere utilizzato con Amazon Alexa e Google Home, ad esempio. Questo portasciugamani elettrico ha un termostato intelligente con display a LED, touchscreen per impostare la temperatura. Può anche impostare la modalità di riscaldamento, la modalità a temperatura costante, la modalità di asciugatura, la modalità tempo, eccetera. Perdite elettriche, protezione dalle perdite d'acqua, sicurezza dei bambini, poiché c'è molta umidità nel bagno, i nostri prodotti sono i P45, nessuna perdita, di addio al rischio di scosse elettriche. Gli scaldasalviette non solo forniscono un piacevole calore e comfort, ma svolgono anche più funzioni contemporaneamente. Lo scaldasalviette elettrico adotta la tecnologia di riscaldamento in fibra di carbonio. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il CECOTEC Scaldasalviette. Portasciugamani in alluminio con tecnologia Warm Space da 500W, in grado di riscaldare in modo efficiente 8 metri quadrati. Include il kit di installazione con tutti i componenti necessari per installare il portasciugamani e l'ancoraggio alla parete. Sistema Twinet per l'utilizzo dello scaldasalviette con due diverse funzioni, per asciugare gli asciugamani bagnati e riscaldare il bagno in modo rapido ed efficiente. Adatto per il bagno grazie alla protezione antispruzzi IP24. Il riscaldatore continuo e la modalità di asciugatura asciugamano di 2 ore. Protezione contro il surriscaldamento del sistema Overprotect. Consumo minimo di 500W con la massima efficienza. Scaldasalviette ad alte prestazioni che riduce il consumo energetico. Display LED Smart Temp dove è possibile visualizzare la temperatura ambiente della stanza in cui è installato. Il vincitore del premio è il CECOTEC Asciugamani. Porta asciugamani elettrico di alluminio e 450W, tecnologia Warm Space è capace di riscaldare 8 metri quadrati di maniera efficiente. Ne viene col kit di installazione che conta con tutti i componenti necessari per installare il porta asciugamani nella parete. Sistema Twinet che permetterà usare il porta asciugamani elettrico come due funzioni differenti, Per una parte, serve per asciugare quando sono umide e anche potrai scaldare la sala da bagno velocemente, godendo di una sensazione piacevole. Potrai scegliere fra due mode SETER, per una parte, il riscaldamento continuo e un'altra per il modo asciugamani durante 2 ore. Consumo minimo di 450W con la massima efficacia. Porta asciugamani di alta qualità che abbassa il consumo energetico. Schermo LED Smart Temp dove potrai visualizzare la temperatura ambiente della stanza dove è installato. Ha un disegno curato con linee eleganti che si adatta perfettamente al bagno. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.